Dopo aver atteso per circa otto anni delle aree utili ad ospitare un nuovo e più grande stabilimento, la ditta Rizzoli, azienda produttrice di stufe e termocucina legna originaria della Val di Fiemme, ha deciso di trasferirsi in terra altoatesina, esattamente a San Lugano, nel territorio comunale di Trodena. Qui ha trovato un'area all'interno della quale realizzare una sede di 16.000 metri quadrati, diventata operativa nel gennaio scorso, grazie al rapido disbrigo delle formalità burocratiche. Perché abbiamo trovato la disponibilità da parte del comune di Trodena di avere tempestivamente l'area edificabile, che in provincia di Trento non siamo riusciti a avere queste risposte dopo otto anni, nove anni di richieste. E proprio il presidente della giunta altoatesina Arno Compaccio era affiancato.